Grazie a tutti partecipato a un contributo teorico dal titolo La forma universale di questo nodo Grazie Mona Lisa, grazie a tutti gli organizzatori La forma universale di questo nodo è tratto da un verso di Dante siamo in Paradiso 33, l'ultimo canto del Paradiso quindi Dante sarà chiaramente uno dei punti di riferimento della mia relazione cominciamo a fare una piccola introduzione teorica cosa significa la parola nodo? secondo me ce lo suggerisce già molto bene l'etimologia stessa della parola deriva da una radice ampitissima indoeuropea GNAD che significa legare, che significa tenere insieme quindi il nodo anzitutto dobbiamo provare a pensarlo come un legame come un legame tra due cose però qui sorge subito una questione secondo me abbastanza interessante sull'essenza stessa del legame cos'è il legame? il legame può essere inteso come una cosa cioè se il legame, il nodo in questo caso, è ciò che unisce due cose possiamo pensarlo come cosa se fosse una cosa dovremmo immaginare un altro legame tra la cosa legame e le due cose che tiene insieme quindi probabilmente dobbiamo provare a cambiare prospettiva dobbiamo provare a pensare il nodo nei termini di una funzione non tanto di una cosa dobbiamo provare a pensare il nodo come a qualcosa che stia al di là della cosa stessa facciamo un esempio molto semplice dobbiamo provare a pensarlo alla stregua del segno alla stregua del simbolo cosa significa? significa che se noi vediamo un cartello stradale noi non ci soffermiamo sulla forma di quel cartello sulla vernice colorata che sta su quel pezzo di metallo eccetera ma subito guardiamo oltre esso e vediamo qualcosa d'altro ad esempio se si tratta di una freccia vediamo la direzione in cui dobbiamo andare nel momento in cui noi vediamo una lettera disegnata la lettera A scritta su un foglio noi non guardiamo la macchia di chiostro che sta su quel pezzo di carta ma ci viene in mente il suono della parola A quindi il segno e anche il simbolo perché se pensiamo a un anello posto all'anulare della mano sinistra lo vediamo come simbolo del matrimonio, dell'amore di qualcos'altro quindi rimanda a qualcos'altro quindi anche il nodo dobbiamo provare a pensarlo come rimando come funzione, come relazione tra due cose che quindi non può essere una cosa e quindi interrogarsi sull'essenza del nodo secondo me significa interrogarsi sull'essenza della relazione capire cosa sia relazione relazione fondamentalmente è ciò che pone in contatto due cose abbiamo detto in che modo? avvicinandole oppure allontanandole e questo a mio avviso lo fa molto bene il nodo perché nel momento in cui noi stringiamo un nodo stiamo avvicinando due cose nel momento in cui noi sciogliamo un nodo le stiamo allontanando il nodo, ma è stato raccontato anche molto bene negli interventi precedenti rispetto al mio è un tema estremamente presente in tutta la storia della mitologia mondiale non c'è ambito culturale che non abbia utilizzato il simbolo del nodo per appunto parlarci del simbolo dell'unione, del legame ma possiamo pensare appunto al nodo di Iside Iside veniva, questa divinità veniva rappresentata dagli egizi con un nodo in testa che sta a rappresentare l'immortalità quindi il nodo è simbolo di Davide il nodo di Salomone ad esempio è molto importante dopo lo vediamo perché viene citato da Davide è considerato ciò che unisce i mortali e i divini però attenzione anche in questo caso ciò che unisce i mortali e i divini non è né mortale né divino è un timetaxu direbbe Platone è qualcosa di intermedio qualcosa che sta in mezzo il nodo di Ercole nel mondo romano ad esempio diventava quella cintura che veniva stretta ai fianchi delle donne che stavano per sposarsi e che sarebbe stata sciolta solo dal marito la notte delle nozze e poi il nodo di Gordio, il nodo gordiano che penso sia già stato ricordato forse anche Davide questa mattina ma io non c'ero che rappresenta questo nodo impossibile da sciogliere velocemente Gordio è questo personaggio che entra in Frigia una regione dell'attuale Turchia che aveva il trono vacante e l'oracolo aveva predetto che chi fosse entrato in Frigia con un carro guidato da vuoi sarebbe diventato re Gordio entra con il suo carro trainato dai vuoi viene acclamato come re fonda la città che porterà il suo stesso nome Gordio e legherà il carro su cui è entrato in città a una colonna del tempio della città di Gordio con un nodo così stretto, così impossibile da sciogliere che il mito racconta che solo chi fosse riuscito a sciogliere questo nodo sarebbe diventato il re, l'imperatore di tutta l'Asia passeranno circa quattro secoli e solo Alessandro Magno nel momento in cui si recherà a Gordio cercherà a sua volta di sciogliere questo nodo e non ci riuscirà troverà una soluzione geniale lo taglierà con la spada così da far vedere che il nodo nel momento in cui non può essere scioglio può essere tagliato cioè si rende necessario un cambio di prospettiva veniamo adesso alla nostra questione arriviamo anche a Dante anzitutto chiedendoci questa cosa ma nodo ha una valenza per noi positiva oppure negativa fare un nodo, stringere un nodo per noi qualcosa di positivo oppure di negativo io banalizzando un po' direi questo nel momento in cui utilizziamo l'espressione fare un nodo solitamente stiamo parlando di qualcosa di positivo e ci riferiamo ad esempio alla grande esperienza dell'amore che molto bene ha descritto Matteo De Simone nel suo intervento l'esperienza dell'abbraccio l'esperienza di due corpi che si annodano e si avvinghiano tra di loro questo sicuramente per quanto riguarda il fare un nodo però se cambiamo leggermente la nostra espressione diciamo avere un nodo già sta diventando qualcosa di negativo già sta diventando qualcosa di pesante avere un nodo alla gola avere un nodo allo stomaco avere un nodo al petto sono espressioni che ci fanno pensare al nodo come a una costrizione a un limite da cui dobbiamo liberarci bene, fatta questa premessa io vorrei semplicemente arrivare a citare alcuni passi di Dante perché Dante? perché Dante nella sua opera in particolare nella Divina Commedia ma non solo ci offre una fenomenologia vastissima della nozione di nodo Dante all'interno delle sue opere ci spiega, ci mostra una decina direi di modalità in cui noi possiamo intendere il nodo io ho cercato di isolarne cinque per semplicità e perché avendo cinque dita riesco a contare fino a cinque e mi è più agevole e quindi diventa più agevole per tutti quanti anzitutto che siamo vi cito un passo da inferno dieci e poi da paradiso eccetera il primo significato della parola nodo nella Divina Commedia di Dante ci sta a indicare qualcosa di complesso ci sta a indicare un problema qualcosa che deve essere sciolto quindi un modo abbastanza comune che utilizziamo anche noi per parlare della parola nodo in inferno dieci infatti leggiamo questi versi dice Dante solvetemi quel nodo che qui mi ha inviluppata a mia sentenza cioè la mia domanda qui è diventata così complicata così aggrovigliata che ho bisogno che qualcuno scioglia questo nodo questo è in inferno sette qualcosa di analogo lo troviamo in paradiso in inferno dieci scusate in paradiso sette troviamo qualcosa di analogo dice Dante ma io veggi ora la tua mente ristretta di pensiero in pensiero dentro ad un nodo del quale con grandioso solver s'aspetta io vedo la tua mente che sta avviluppata ancora una volta dentro un nodo che dobbiamo cercare di sciogliere diventa un po' più divertente sempre la stessa accezione della parola nodo il paradiso ventotto perché? perché in questo caso è Beatrice che si rivolge a Dante e spesso quando Beatrice si rivolge a Dante lo fa in maniera abbastanza decisa qui sembra proprio bacchettarlo insomma prenderlo quasi in giro paradiso ventotto Beatrice dice a Dante se i tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti non è maraviglia cioè se le tue mani non sono in grado di sciogliere questo nodo io non mi meraviglio sembra che lo stia quasi prendendo in giro poi si salva diciamo in corner perché nel verso successivo Beatrice aggiunge tanto per non tentare è fatto sodo cioè questo problema una questione teologica riguardo agli angeli non è stata mai tentata da nessuno e quindi per questo è diventata così difficile quindi alla fine salva un po' il nostro Dante Dante che invece nel momento in cui si rivolge a Beatrice sempre sulla questione del nodo lo fa in un modo completamente diverso cioè vediamo un Dante completamente prostrato davanti alla figura di Beatrice e veniamo alla seconda accezione della parola nodo siamo in paradiso 31 e qui il nodo ha il valore di un vincolo fisico da cui bisogna liberarsi e in particolare qual è il vincolo dei vincoli di cui il cristiano sente che deve liberarsi chiaramente il corpo l'anima ha bisogno di liberarsi del corpo e Dante arriva a dire a Beatrice che lui si augura di poter morire cioè di poter staccarsi dal suo corpo nel modo che Beatrice preferisce preferisce sentite cosa dice dice la tua magnificenza in me custodi sì che l'anima mia che è fatta e sana piacente a te dal corpo si disnodi spero che la mia anima si stacchi dal mio corpo nel modo che a te piaccia di più che si stacchi dal mio corpo si stacchi dal mio corpo si stacchi dal mio corpo